Ma ancor mai poco alla decisione del GIP sulle misure interdittive per i cosiddetti baroni di Careggi. Nel frattempo l'inchiesta continua con nuovi fascicoli e nomi di indagati. Dagli accertamenti dell'indagine principale sono emersi particolari che hanno spinto il PM ad aprire altri filoni, due nuovi fascicoli su orari delle elezioni e turbativa di selezione. Nelle intercettazioni agli atti dell'inchiesta del PM Tommaso Coletta, in cui sono indagati 15 professori di cui per 12 si attende la decisione del giudice in merito alla richiesta di interdizione, emerge chiaro un sistema radicato e persistente nel tempo che ha impegnato i vertici della medicina universitaria fiorentina con il fine di pilotare i concorsi per favorire i fedelissimi di reparto a scapito degli sgraditi anche se teoricamente dotati di miglior curriculum. Ma ci sono ombre anche sulla gestione dei fondi destinati alle ricerche scientifiche. In sostanza gli stanziamenti sarebbero stati trattenuti da una professionista di Careggi. Secondo la procura inoltre sono state diffuse in modo studiato voci sul nemico Oreste Gallo, che ha denunciato il sistema di potere che secondo le indagini dominerebbe Careggi. Gallo mobbizzatore e molestatore di colleghe, questo è stato detto. L'ex prorettore Paolo Becchi, intercettato, ne parla con vari colleghi. Argomento quello delle calunnie che il PM etichetta come venticello se confrontato con la tempesta che si è battuta sul sistema dei concorsi oggetto d'inchiesta. Saranno le indagini e il tempo a fare chiarezza forse su nuove retroscena di questa vicenda che macchia il sistema universitario.